Armena Sviluppo S.P.A. è l'agenzia di sviluppo dell'area metropolitana di Napoli. Società in house providing partecipata al 100% dalla città metropolitana di Napoli, l'agenzia persegue per statuto l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo economico locale, contribuendo ad esso attivamente sia attraverso l'erogazione di importanti e tangibili servizi pubblici, sia fornendo supporto e competenze agli stessi enti locali presenti sul territorio dell'area metropolitana di Napoli. Il servizio di ispezione e controllo degli impianti termici è un servizio che Armena Sviluppo svolge nel settore della tutela ambientale. I tecnici dell'agenzia verificano presso il cittadino che la manutenzione sia stata realizzata secondo la normativa vigente. Tra i servizi che l'agenzia svolge per conto della città metropolitana di Napoli vi è il servizio di ispezione e controllo degli impianti termici. La città metropolitana di Napoli ha il compito di controllare in tutti i comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti che la manutenzione degli impianti termici sia stata eseguita correttamente, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. La città metropolitana di Napoli, di comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti, effettua l'ispezione sugli impianti termici attraverso l'agenzia di servizi Armena Sviluppo S.P.A. I responsabili degli impianti saranno avvisati con comunicazione scritta da Armena Sviluppo della data e dell'ora in cui verrà effettuata l'ispezione dell'impianto termico. Si ricorda che la manutenzione dell'impianto termico dovrà essere effettuata periodicamente da una ditta o da un tecnico abilitato regolarmente iscritto alla Camera di Commercio o all'albo artigiani e in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Al termine delle operazioni, il manutentore deve rilasciare al responsabile dell'impianto il rapporto di controllo di efficienza energetica, compilando un apposito modello che si chiama Allegato II, tipo 1, decreto ministeriale 10 febbraio 2014. Armena, per conto della città metropolitana di Napoli, ha solo il compito di verificare che la manutenzione sia stata correttamente realizzata. Realizzare una regolare e puntuale manutenzione dell'impianto termico riduce il rischio di incidenti domestici, esplosioni, incendi, intossicazioni, rende la bolletta più leggera, consentendo un risparmio sui consumi fino al 30%. Contribuisce a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente. L'invito a tutti i cittadini è quello di adempiere a quanto prescrive la normativa in materia di impianti termici, facendo controllare periodicamente lo stato dell'impianto attraverso tecnici e ditte abilitate e garantendo la massima collaborazione ai tecnici Armena Sviluppo S.P.A. Il controllo eseguito potrà verificare la bontà della manutenzione da voi fatta eseguire nell'interesse della salute e sicurezza di tutti i cittadini e del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente nel quale tutti viviamo. Come sindaco della città metropolitana invito tutti i miei concittadini ad aprire le porte di casa per la verifica degli impianti termici da parte della società Armena, che è una società partecipata della città metropolitana. Questo consolida la vostra sicurezza, la sicurezza della vostra casa, di chi vi abita vicino, porta a una riduzione dei consumi anche sino al 30% di risparmio sulla bolletta, migliora la qualità dell'aria e quindi il nostro ambiente. È un appello per la sicurezza, per la vita e per il nostro ambiente. Grazie a tutti.